Ciao a tutti, oggi usiamo gli ucchi che avviamo avanti dal pastore che ho già postato nel video per fare un carico di apple speciale. Ne necessitiamo non solo i ucchi ma anche 200 grammi di farina, 170 grammi di zucchero, 100 grammi di zucchero, se non puoi mangiare o mangiare il vino, puoi usare l'olio, 130 ml di acqua, 15 grammi di soda e la pelle del limone e 1 tablespoon di liquido di amaretto. Molto semplice, ora prepariamo il pane e dopo puliamo e cuociamo le appole. Prima mixiamo il zucchero con il flore e il baking soda e dopo aggiungiamo tutti gli altri ingredienti liquido. e in fine le appole. 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 non ci vediamo i now we cut the apples the nice slices we put apart because we will put on the surface of the cake the other one we will put directly in the dough so Non preoccupare, il piacere che vedete nel piacere sono batteri, dopo quando aggiungiamo le appoglie, si disappearanno. Ora mettiamo le appoglie dentro del piacere, mixiamo tutto molto bene, mettiamo in parte alcuni piccoli, alcuni piccoli di appoglie per completare. Nel piacere possiamo aggiungere un po' di zucchero e dopo lo mettiamo in l'ovno, pre-eatato a 180 gradi di C. Naturalmente nel piacere mettiamo un po' di zucchero e un po' di flour. Un po' di zucchero e un po' di zucchero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mamma mia, spettacolo, especially with the crust that remain from the other recipe, the pastry with fresh fruit. Spettacolo. Ok, guys, remember to subscribe to the channel, to leave me a like it, to watch the other video all around me. Bye-bye.